Quando c'è stato l'attacco delle teorie gemelle dell'11 settembre, le industrie militari mondiali valevano in borsa circa la metà di quanto valgono adesso e il loro giro d'affari era circa un terzo di quanto vale adesso. Quindi sicuramente per loro questi dieci anni di guerra, in particolare in Afghanistan e prima in Iraq, è voluto dire grande business che è cresciuto. Le spese militari mondiali in dieci anni sono cresciute del 50%, arrivando a superare i 1600 miliardi di dollari. Ecco, oltre a ricordare ovviamente le vittime, la distruzione, i problemi che sono stati creati dal conflitto da ambo le parti, credo che dobbiamo fare una riflessione, noi che viviamo lontani da questi conflitti, su quello che è successo proprio al sistema guerra SPA. E se vogliamo disinnescare quei conflitti e quei morti, dobbiamo partire anche da quello.